La lettera di Giulietta La lettera di Giulietta La lettera di Giulietta Amanti figli di puttana Io voglio uscire vivo da qui Lo voglio Dimmi che non sembro una cazzo di principessi Andiamo a stronzarci Che sta succedendo qui? È tutto ok? Abbiamo due sale da ricevimento Si è perso lo sposo? Tu non lascerai mai mia figlia, vero Freddy? No Indovina chi sposa Sally Dal 27 agosto al cinema Nel 2003 studiavo per fare l'attore Sognavo di diventare regista di videoclip e documentari sociali Dov'è che dovremmo andare? Qua In Iraq Cazzo ci fai qui? Sono venuto per girare un film Che devi fare? Buon'Italia non sapete niente di quello che sta succedendo ancora Via, via, via! Via, 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 via! Ho smesso tante cose Non sono riuscito a smettere di fumare Sono giovani, belli, ricchi Ma come tutti i ricchi si annoiano Abbiamo l'occasione di cambiare le nostre vite di merda per sempre Vi voglio vivi Caribe Ambusters Un film di Enzo G. Castellari Al cinema In ogni sogno che faccio Dal produttore Michael Bay C'è sempre quell'uomo Quest'anno Chi sei? Non ti ricordi Benvenuti Cerca di ucciderci nel sonno Nel vostro nuovo incubo Pegliati! Oddio No, solo io Nightmare Al cinema Alcune di voi avranno sentito che è in atto una rivolta E che la chiamano Intifada Se non si è uniti non si ottiene niente Mi sento inutile Vorrei poter fare qualcosa di più Comprendo la tua rabbia Ma le tue emozioni Devi saperle tenere a bada Ti rendi conto come chi è? È un patriota Miral dal 3 settembre al cinema Ritiene che urlo Il poema di Gisberg Sia un testo osceno Cos'è veramente osceno? E per chi? È come sguazzare nel fango Quando leggi quella roba Ci sono libri che possono cambiare le nostre menti A che punto sei col caso Shelton? Ho patteggiato Hanno ucciso una bambina Devi dirlo al padre Non riesco a capire La giuria dovrà credere a me Mi dispiace È così che funziona la giustizia Ha ucciso lei, Clans Darby Lui ha ucciso mia moglie e mia figlia La idea è una mente E se vi vuole morti Siete morti Come diavolo fa? Attraversa i muri? Ora voglio sapere esattamente come hai fatto Questo è solo l'inizio, avvocato Giustizia privata Sarà biblico